Ricetta. Cucina i pancake. Reading and PCS. Benvenuti al nostro corso di cucina. Oggi vediamo come cucinare i pancake. Ingredienti. Cucina e pancake. Mezza tazza di farina. Due grandi uova fresche. Una tazza di latte. Un cucchiaio di olio vegetale. Spicchi di limone per servire. Zucchero semolato per servire. Ricetta. Metti tutti gli ingredienti in una grande ciotola. Aggiungi un pizzico di sale. Sbatti la pastella finché diventa fluida. Aspetta per mezz'ora. Riscalda una padella media. Pulisci bene con la carta da forno oleata. Cucina i pancake per un minuto ogni lato finché saranno dorati. Mantieni i pancake al caldo, ad esempio in forno. Servi con spicchi di limone e zucchero semolato o aggiungi il tuo riempimento preferito. Puoi avvolgere con pellicola e congelare per due mesi. Iscriviti al canale o metti like al video se ti è piaciuto questo video. Grazie. 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 Grazie.